La giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, torna anche in presenza questo sabato 27 novembre, dopo l'edizione 2020 realizzata solo con le gift card. Saranno 145.000 volontari a disposizione in tutta Italia per questa edizione numero 25, che dimostra l'impegno costante e la grande organizzazione che si concretizza anche quest'anno. Sì, è un grande evento, concreto, è un gesto però molto semplice, la possibilità di donare una piccola parte della nostra spesa, piuttosto che invece un po' di tempo della nostra giornata dedicata a chi in questo momento è in difficoltà. I prodotti saranno distribuiti a 7.600 strutture caritative e convenzionate con il Banco Alimentare, che in tutta Italia sostengono quasi 1.700.000 persone. Si può fare anche un po' un bilancio dopo tanti anni? Quanto bene ha portato il Banco Alimentare? Beh, è stato innanzitutto, la giornata della colletta alimentare è sempre stata una grandissima occasione per essere sorpresi dalla provvidenza. Possiamo fare mille programmi, mille pianificazioni, ma poi alla fine ci stupisce sempre di più di quello che noi abbiamo mai immaginato. Grande generosità quella messa in campo anche dai volontari che assistono nei supermercati, che aderiscono e sono persone comuni o organizzazioni come il CONFOTER, l'Associazione Nazionale Bersaglieri e l'Associazione Nazionale Alpini. Noi siamo in presenza su 138 punti vendita dei 174 che hanno aderito al Banco Alimentare, quindi l'80% circa dei punti vendita saranno coperti dai nostri volontari che promuoveranno il Banco Alimentare. La giornata si terrà quindi sabato 27 in presenza nei punti vendita aderenti e sarà utilizzata anche quest'anno la possibilità di donazioni in denaro tramite gift card. Da domenica per tutta la settimana successiva ci sarà la possibilità di fare comunque una donazione attraverso l'acquisto delle card che ricordo si trasformano in cibo a partire dal mese successivo che verrà donato a noi in diversi magazzini oppure online attraverso la piattaforma di Amazon.